MIST EUROPE CONTINENTAL MIST EUROPE CONTINENTAL MIST EUROPE CONTINENTAL MIST EUROPE CONTINENTAL Sono oranato di essere a Miss Europe Continental, sono Claudio Romano e sono il General Manager dell'Orafo Mediterraneo, il brand che ha creato e sponsorizzato la corona di Miss Europe. MIST EUROPE CONTINENTAL MIST EUROPE CONTINENTAL MIST EUROPE CONTINENTAL MIST EUROPE CONTINENTAL Tanta vibrazione e tanto fermento per questa corsa ad accapararsi questa corona come primo premio che luccica di luce proprio quasi quanto luccicano le ragazze che parteciperanno a questo concorso. MIST EUROPE CONTINENTAL In quanto le ragazze che partecipano a questo concorso sono tutte bellissime, però purtroppo ne vincerà solamente una, che sarà la nuova Miss Europe, come dire, indosserà la nostra corona. MIST EUROPE CONTINENTAL